... Roba alla grande, ragazzi. Alla grande. Che felicità. Bene, perché a me piacciono gli uomini di esperienza che sanno distinguere. Guardi. Sì? È forse colpa mia se mi escono tutte di fuori. E che roba è, non si fanno queste cose. Prima promette, poi non mi adieni. A me mi hanno dato questa cosa piccola, bruttarella pure, che sembra un cesso. Sembra. È un cesso. Ancora lei. O se ne vada e si vergogna, turpe, guardone e laido. L'aido non me lo può dire, sai, perché io vado a messo ogni domenica mattina, anche se lei legge l'osservatore romano. No, non va niente, io me ne frego di queste cose. La felicità è lo stesso. C'è Saul, c'è Luciano Sergio, ma pretitipatia. Che brevo, quando è brevo. Abbiamo creato una specie di simbiosi per lui. Anche perché ha capito la mia provenienza, diciamo, la mia cultura, la mia intelligenza. Vieni avanti, cretino! Presenne, vieni fuori. Presenne, superiore. Guardi che io non c'entro. Ah, sì, sempre così, vogliamo. No, no, non c'entro proprio dal buco. Mio Dio, sono loro i miei fratelli. E io li affronto da uomo a uomo. A dieci secondi di tempo, mi dica a che specie, sottospecie e famiglia appartengono. Eh, vabbè, ma scusi, io vedo solo il culo. La coda, prego. Vabbè, ma la coda sta vicino. Va bene, allora me lo faccia vedere. Perché si vergogna? Lo vuole vedere? Eh, chi? Oh, ma la vogliamo finire con sta storia. E lo vuole vedere? Guardi qua, è a Rossetta, è a Tocco. Signore, non c'erò un mezzo prosciutto? No. Quattro uova. Vieni, e non te ne pentirai? Io c'ho feve, sono due giorni che lo faccio io. Ma che stai facendo, Pasquale? Fa una prima spalle. Ha risposto all'annuncio ed è stato subito assunto. Gamma, glotamil, traspettina, 28%. Fosfatase alcalina, 0,57%. Reazione di Kunker-Wurman, 42,9%. Non avranno che ha preso il cortisone chimicitina? Preso la metropolitana. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Mi, mi, mi. La sua soddisfazione è il nostro corso di più. Grazie a tutti.